visto che ti rivedi poi al cinema e questo vale anche per vi piacete o iniziate a pensare ma io questa battuta la potevo fare così penso succederà a tutti non ci voglio più pensare io per esempio su Spider-Man ho iniziato a guardare il film senza pensarci la quarta volta l'ho visto le prime tre volte stavo lì oddio qua l'ho detto no devo fare diversa cacchio è sempre così ma penso per tutti insomma ci risentiamo penso molti di noi sono molto autocritici ma è giusto così perché si cerca sempre di migliorarsi certo però non c'è neanche poi quella con sapevo hai fatto un bel lavoro in sala rispondono molto spesso si ha soddisfazione ovviamente perché comunque lo senti magari quando hai fatto delle cose buone però pensi sempre a alcune cose le avresti potute fare meglio poi magari noti delle cose ovviamente nessuno nota questo ragno questo ragazzino perché poi è il ragazzino del film tutto scompettante tutto esuberante e dai proprio l'idea che stai zompettando tu ah ti ho fatto questo eh sì vabbè quello è quindi voglio dire sembra una performance ottima perché sembra sei tu che stai saltando sì sì quello si cerca di creare tutto poi anche grazie ai direttori a chi a chi ci supporta in sala no? ci supporta e ci sopporta perché comunque non è facile ma ecco molte volte anche succede che cosa che il direttore ti dice di fare una cosa di fare una battuta in un certo modo tu la fai magari cioè molte volte tu non sei molto d'accordo nel senso vorresti farla diversamente no discussione no tra virgolette diciamo non ce n'è perché sì un po' si può discutere si può trovare un compromesso però poi bisogna fare quello che ci viene detto perché il responsabile è il direttore del doppiaggio quindi molte volte vai a fare anche delle cose in un modo che ti va a risentire e dici vedi qua io la volevo fare in un altro modo e non mi piace come l'ho fatta però poi non si sa chi ha ragione nel senso sì infatti bisognava alla fine sempre fidarsi e di chi ci sta dietro quadro globale poi magari non sempre sì sì no ma infatti appunto penso siamo tutti un po' autocritici però ovviamente cioè io sono soddisfatto del lavoro che ho fatto ovviamente non è facile guardarsi godersi il film senza avere un orecchio diciamo proprio alla propria voce no? cioè non è che ti guardi il film così tranquillo te lo guardi poi appena parli tu stai così cerchi di capire poi magari dopo un po' che l'hai visto ti abitui e non pensi neanche più ti scordi di essere te che ti guardi il film che ti guardi il film ti guardi il film